Siamo in via Leonardo da Vinci per mostrarvi una curiosità segnalata ci da un lettore. Questo segnale stradale apparentemente non ha nulla, in realtà alla base presenta una lesione che comporterebbe un pericolo di caduta. Bene, che cosa si è pensato di fare? Non sostituirlo o ripararlo ma semplicemente legarlo con un filo d'acciaio alla cancellata nella recensione di questo condominio perché in questa maniera nonostante la lesione presente su tutta la base il segnale stradale dovrebbe mantenersi in teoria e se la teoria non corrisponderà ai fatti peggio per chi passa.